e bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sono francesco e oggi ufficialmente come sempre siamo tornati nella serie scp di minecraft sempre con lui non può mai mancare elettro perché ovviamente insomma la stanza di carne le scp 0 per chi se lo fosse perso se lo vado a vedere perché abbiamo penso e abbiamo preso pure i suoi blocchi della cella abbiamo preso pure il blocco la carne abbiamo preso pure il proprio come formato e stava pure il totem cioè il token del scp 002 e abbiamo preso anche sui blocchi di contenimento perché mi sembrano abbastanza più resistenti di quelli di casa nostra sicuramente saranno più resistenti che oggi andremo ad usare quindi sarà abbastanza una cosa pericolosa poi ragazzi prima di usarlo ovviamente l'utilizzeremo qua fuori perché se lo utilizziamo mi sta dentro casa succederà un pandemonio in un casino vabbè c'è una cosa strana cosa si nota della carne nooo non mi dire che la carne è scappata si espansa si si disprofonda mannaggia aiuto aiuto scusate la suoneria però aspetta aspetta mannaggia sta carne si espansa un po non dico tanto ma si espansa un po vabbè 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 allora si utilizziamo il foglio di carina bene direi di utilizzarlo qua ok mi sa lo devo buttare per usarlo perché se sto premendo tasto per lo usare quando mangi per esempio niente beh allora mi tocca buttarlo sopra qualcosa mi sa dovremmo fare un rituale non lo so proviamo e proviamo a fare tipo rituali così metto delle torce al centro e butto il foglio ok lo sto per buttare ok allontananti l'ho buttato l'ho buttato l'ho buttato aspettiamo che succede qualcosa il foglio è sparì mi sono sponati Caino e Abele Caino e Abele oh mio dio ma che ci fa qua Caino oh mio dio è sponato un fulmine oddio il fulmine ha distrutto il foglio tra l'altro ma Abele si è carato un cubo aspetta Elettro è l'ora della scontra si devono scontrare facciamoli scontrare e per ora il mondo non lagga più quindi questo sarà super veloce si lo scontro eccolo 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 che fa oh ed infatti è diventato più veloce di prima è diventato più veloce di prima ma diventa subito un cubo è vero però forse non vuole uscire dal suo cubo aspetta dobbiamo farlo incontrare in qualche modo aspetta lo picchio eh aiaia mi fa mi fa un sacco di danno aspetta avviciniamo Caino ok ok ma non si è accorto si è accorto e dai ma dai ma ma che era il cubo dai ma ma che era il cubo ma è cringissima sta cosa cioè ma poi ecco perché diventa il cubo cioè non la faceva e vabbè noi continuiamo a spaccare perché si vede che se ne sta eccolo ecco ok si stanno incontrando si stanno attaccando si stanno attaccando guardiamoci il combattimento intanto e l'ha l'ha ammazzato ma l'ha ammazzato l'ha ammazzato caino ma però la bella è ancora vivo e però io se ti mi sono fatto una domanda se questo qua è Caino si e noi a casa abbiamo Caino non è che è scappato due Caini secondo me secondo me è scappato questo foglio l'ha capito diciamo evocato l'ha ammazzato quindi non c'è in casa e no per forza perché aspetta però dagli un puno e andrebbe da controllare e adesso si è arrabbiato aspetta 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 e quando è tanto lontano ti perde di vista e non ti attacca più quindi quando è tanto lontano aspetta adesso voglio provare con la tele kill perché io mi ricordo che l'ho attaccata solamente una volta aspetta aiuto sono dentro casa aspetta che scendo giù di nuovo aspetta eh ma non capisco cioè questo abel era strano si buttava sempre in pietra eh può essere che questo abel forse perché c'era Caini e lui non la voleva adere capito non la voleva incontrare eh sì ma se il Caino andasse sulla carne vabbè provo provo ad attaccare aspetta lo sto attaccando un sacco di volte vedi immortale cioè lo sto attaccando l'ho attaccato addirittura quattro volte ma toglilo no dai no no aspetta aspetta no 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 bugia non lo voglio rimuovere perché dopo tutto Caino non è cattivo eh ho capito vabbè senti lasciamolo poi quando torneremo lo riportiamo a casa dopo lo riportiamo a casa intanto si è unito un tizio pausa il video vabbè ok ragazzi noi intanto stiamo dirigendo alla cella dopo ok ragazzi e siamo tra l'altro era qua vicino ci siamo rilenticati comunque Caino noi l'abbiamo perso di vista non c'è più mi sa che è tornato a casa e poi è tornato l'abbiamo capito adesso adesso lo rimuovo subito dal mondo perché Abele non è morto sta ancora dentro il cubo e ha fatto anche un casino si quindi sta riempiendo l'inventario l'inventario di eccolo qua è dentro questo cubo ok no perché ha creato cubi tanti cubi quindi mi confondo ma oh ok ok l'ho rimosso l'ho rimosso l'ho rimosso comunque la battaglia tra Caino e Abele praticamente non ha vinto nessuno di due perché Abele è respawnato che crea un sacco di cubi quindi Caino invece è immortale però è fortissimo cioè Abele è più forte però Caino è immortale vabbè adesso vieni che andiamo nella cena dell'SCP 500 ah io mi sono fatto male col cactus eh ho già spoilerato si eh scusate ho già spoilerato si tratta proprio dell'SCP 500 la pillola la panacea vai apri vedi vai ecco qua ragazzi ecco qua questa qua l'SCP 500 proprio sanno tutti che cos'è l'SCP 500 intanto prendi la eh il segno il cartello eh è una pillola la panacea che la teniamo pure una a casa praticamente queste panacee si aveva trovata una nella cena del dottore si queste panacee chiunque la mangia se hai una malattia mal di testa qualsiasi malattia pure il coronavirus addirittura eh ti rimuove qualsiasi malattia qualsiasi cosa che sia pure un mal di testa te lo rimuove rimuove qualsiasi malattia quindi ragazzi pensate addirittura può essere la cura per il covid definitiva eh se esistesse nella vita reale si purtroppo e quindi e e molto buone ce le dobbiamo portare a casa queste pillole poi così quando si dovrebbero essere 46 le pillole si esattamente proprio come c'è scritto anche nel fascicolo ok eccoci qua questa è la chest ma non sono 47 cioè sempre oh ma qua c'è il token ok prendile prendile tutte si sto prendendo tutte io mi sono preso il token si ma è strano che è strano che non siano 47 quante sono? 16 quante sono? strano pochissima si vedete che la fondazione le ha usate può essere che uno aspetta ho pensato non è che si sono divise cioè sono sparse in giro di tutte è vero perché nella cella dell'SCP nella cella del dottore è il nostro primo video che abbiamo fatto perché nella cella dell'SCP 049 ce n'era una quindi non è che ce ne sono sparse tutte in tutte le celle potrebbe essere una di più pillole e quindi sono 47 ma sono divise qua nella cella principale ce ne sono solo 16 si potrebbe essere vabbè ragazzi adesso saliamo e vediamo come è la situazione in casa quindi ragazzi è dopo mettiamo anche la pillola si è dopo un'altra cosa un'altra cosa è che qua qua c'è la cella della bambina guarda aspetta dove non li scopri qua qua ti vede qua ok si infatti no aspetta la cella della bambina fammi andare a vedere è la cella della bambina perché qua c'è l'acquario con i pesci ah vero è vero aspetta un attimo ecco la bambina come aveva fatto uscire le porte sono spaccate non ci sono più no queste le ho tolte io perché ero tornato per diminuire il lag però la cosa è che la bambina è proprio uscita quindi vuol dire che si trova in giro da qualche parte ancora la bambina vabbè adesso ragazzi soliamo e soliamo sopra e vi dice poi vediamo com'è la situazione a casa quindi a dopo ok ragazzi siamo tornati tra l'altro abbiamo notato allora abbiamo anche tolti i cubi di amele si li abbiamo tolti io vorrei togliere la carne anche si poi tu intanto toglila io vi do com'è la situazione in casa ok allora mi vedi caino ci dovrebbe stare ancora dalla cella cioè può essere che è tornato dalla sua cella perché ormai mi sa quel posto è diventato la sua casa quindi andiamo a vedere se sta ancora nella sua cella aspetta che vorrei scoprire la porta ok è molta carne qua comunque ah ok eh tu continui a scoprire tu continui a prenderla fin quanto ne puoi fin quanto puoi intanto io vado a vedere se caino sta ancora nella cella credo di sia aspetta si è tornato nella cella è tornato oh ok ok adesso però dobbiamo sperimentare l'SCP di oggi cioè la panacea sì dovremmo andare a trovare tipo un SCP virus tipo no aspetta la piaga degli zombie un ASC dovremmo trovare un ASC perché quello ti dà la fame quando ti picchia quello zombie quello zombie là andiamo a trovarlo perché va l'ASC eh si trova nel deserto si trova nel deserto si trova nel deserto l'ASC andiamo a trovarne uno va quindi ragazzi a dopo sì ok abbiamo tornato l'ASC ragazzi e li abbiamo portato davanti a casa nostra adesso mi faccio colpire ok eh aspetta allora ok mi ha colpito mi ha dato mi ha dato fame mangio la pillola mangio la pill... oh oh mi ha dato rigenerazione resistenza resistenza al fuoco eh eh oddio mi ha dato pure mi ha dato pure assorbimento però l'effetto non me l'ha levato però mi ha dato oddio mi ha dato un sacco di effetti positivi scusate tra l'altro avevamo un altro in più meno male comunque mi ha dato un sacco di effetti positivi tra l'altro scusate per le notifiche che mi arrivano in questa suoneria però non è colpa mia ok puoi ammazzare l'ASC eh ok ok perfetto acquista ok portale a casa tieni e te le do te viene anche una viene l'ora no no portale a casa mettile nella cesta e poi direi anche di conti te le ho aiuto una eh no 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 te le ho date tutte io e aspetta eh sì io te ne avevo dato una no no te l'ho ridata te l'ho restituita te l'ho restituita aspetta controlla eh sì ho controllato un mo' nell'inventario non c'ho niente c'ho solamente il computer il costo per le keycard la keycard di livello 1 e la scale blocking va bene io mi ricordo che te l'ho va bene va bene ragazzi eh direi di concludere questo video e mi raccomando prima di concludere questo video mi raccomando iscrivetevi al canale attendo la campanellina per non fare questo mio video attendo la campanellina vabbè attendo la campanellina ormai non avete capito fate stessa cosa anche ovviamente col canale di Elettro e noi e da me Elettro ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao